Tra le varie specialità che poteva scegliere, lei ha scelto la velocità, la corsa, i 100 metri, perché? Era un modo per risentire le proprie gambe? Quando ho imparato la corsa, la tecnica con una protesi, puoi riuscire a sentirti un tutt'uno e veramente a sentire quella sensazione di vento in faccia, di velocità, dinamismo, abilità che appunto io avevo perso diventando disabile. Lei aveva 18 anni quando dopo una festa stava tornando a casa in motorino con suo fratello e una macchina l'ha investita. Suo fratello in colume, lei invece no. Ha un ricordo di quell'incidente oppure ha perso i sensi? No, mi ricordo bene fino a che appunto non sono andata in shock e da lì diciamo non ricordo più fino a quando non ho avuto la notizia dell'amputazione. L'incidente in sé è stato abbastanza tosto e io ho sentito subito dolore alla gamba, mio fratello mi ha rassicurato, io ho parlato al telefono con mio papà, eccetera. Momenti concitati e poi via in ospedale. Ha saputo che le avevano amputato la gamba dopo che si è risvegliata dall'operazione, dopo che ha riacquisito lucidità, perché lei poi è stata a lungo in coma indotto con i farmaci. Quando hai realizzato, cosa è successo? Al momento io ricordo di aver proprio urlato una sorta di no, soffocato dai tubi e dalla situazione in cui ero. L'ho capito veramente poco a poco, soprattutto quando ho visto per la prima volta la mia gamba senza fasciature. E' stato tremendo, non sai se potrei tornare proprio a essere felice a 360 gradi e ti aspetta un cammino che è abbastanza in salita. Ma lei a 18 anni si è sentita in quel momento più una miracolata per essersi comunque salvata o l'esatto contrario in quel momento? Ho cercato col pensiero proprio di andare nella direzione più positiva, che è quella di guardare a quello che era rimasto e a quello che invece sarebbe potuto succedere se io fossi morta. Quindi niente, perché se finisce la tua vita... C'è un momento che avrebbe preferito il contrario? Di essere morta? Mai, mai, mai. Qual è stata la cosa pratica più difficile da imparare a fare? Abituarmi ogni mattina a mettermi la protesi. O quando ti alzi di notte che devi andare in bagno e devi metterti la protesi al buio. E' stato difficile abituarsi al fatto che io senza protesi non andavo lontano. C'è qualcosa invece a cui non si abituerà mai? Ci sono delle cose che ancora mi danno fastidio e che sono per esempio le scosse elettriche che mi arrivano quando sono stanca. Perché quando sono stanca è proprio la mia gamba quella che mi dà i primi sintomi della serie fermati. Quell'incidente guidava suo fratello. Lui è rimasto in colume, in leso. Lei no. L'ha mai attraversata il pensiero ed è umano perché a me e a lui no? Non ho mai pensato questo perché in realtà lui è toccato una cosa forse molto più forte che è il senso di colpa. Che anche se non era colpa sua però se l'hai portato dentro chissà forse se lo porta ancora oggi. Quindi non ho mai fatto quel pensiero. Più che altro ho pensato perché a me in generale. E come sei risposta? Mi sono risposta che vabbè sono un po' sfigata, che è un po' il caso ma forse che io ero in grado di superare una roba del genere mentre magari altre persone no. E suo fratello cosa gli ha detto? Qual è la cosa che più l'ha colpita? Mi ha colpito la sua presenza e soprattutto nel primo periodo che non si scollava mai da quella sedia di ospedale. Non mi ha mai discriminata per il fatto che può succedere che uno anche involontariamente ti tratti da disabile e lui non l'ha mai fatto. Ma lo dici è un suo pregio? Uno dei tanti intendi. Non sono troppo dura con le persone ecco. E invece è un suo difetto vero? Beh a parte che sono smemorata. Uno vero, un po' insopportabile? Beh quando mi incazzo, mi incazzo. Tipo una volta che hai esagerato qual è stata? Quarantena, è successo di tutto perché eravamo compressi e niente ho lanciato un bicchiere. Eeeh! Eh guarda che per me è stato grave. Dipende se ha preso la persona che l'ha lanciato in fronte. No, no, non addosso però insomma... No, no, ci manca...